La Virtus Cupello, come una formichina diligente e laboriosa, ha accumulato una discreta provvista di punti per sopravvivere ai freddi invernali, ma le riserve cominciano a scarseggiare dopo le tre sconfitte nelle ultime quattro gare che hanno fruttato la miseria di un solo punto. Il compito prioritario dei rosso-blu di Mr. Carucci è quello di tornare a correre e tenersi agganciate ai pieni nobili della classifica. Al comunale arriva il Sambucetto in leggera ripresa dopo un periodo altalenante che punta ad un risultato positivo per risalire la china e allungare la piccola striscia positiva. Tra i padroni di casa fa il suo esordio tra i pali il nuovo arrivato d'Ottavia Antonio, per lui un gradito ritorno che va a tamponare l'assenza per squalifica del portiere titolare di Vincenzo. I rosso-blu partono subito all'offensiva ma Didonato è attento sulla zampata in area di Colitto, ridotta a più miti pretese. Il classe 2004 che difende la porta ospite è attento anche sulla successiva conclusione dalla distanza di Tafili, ma non è irreprensibile sul traversone di Ruzzi che li scivola tra i guantoni e rischia di diventare una pericolosa saponetta che alla fine termina la corsa a fondo campo. Ma se gli affondi virtussini si rivelano infruttuosi, la truppa di Mr. Ronci è indubbiamente più pragmatica e rompe l'indugia alla prima offensiva. E' il diciassettesimo infatti quando Barro deposita in fondo al sacco dopo la corta respinta di Felice che gli consegna un involontario assista al bacio che il colore d'ospite finalizza senza esitazione. Lo stesso Barro prova a rimpiguare il vantaggio con una perfide inzuccata che impegna Dottavi Antonio costretta ad un colpo di reni che gli consente di inarcarsi e innalzare la sfera sopra i legni della sua porta. Poco oltre la mezz'ora i locali invocano il tiro dal dischetto in seguito al contatto ravvicinato in area tra Rosati e Caniglia che frana terra dolorante. Il signor Pellegrino di Teramo non ha nessuna visaglia che lo induca ad assegnare il penalty. I ragazzi di Carrucci cercano di chiudere la frazione rientrando in carreggiata ma il tiro di Margagliotti che va alla conclusione accentrandosi dalla sinistra si spegne sopra i legni di Didonato mentre Felice va a segno pochi minuti dopo con l'assistente di linea che sbandiera una posizione irregolare del difensore cupellese e non convalida la segnatura tra le vibranti proteste del pubblico di casa. I rosso-blu rientrano in campo con propositi bellicosi ma dopo il buon tentativo di Colitto apprezzabile per il gesto tecnico ma poco efficace nella finalizzazione anche per la ferma opposizione di Didonato, il Sambuceto dimostra ancora una volta di non badare ai fronzoli ma alla sostanza e al diciottesimo confezione il raddoppio dell'ipotetica tranquillità. In questo caso è il bomber Miciche a piazzare la stoccata risolutrice con un perfido diagonale al culmine di una micidale ripartenza che trova scoperta la difesa di casa e per Dottavi Antonio arriva il secondo dispiacere domenicale. Il Sambuceto staziona ancora dalle sue parti ma il tentativo da limite di Marfisi si alza sopra i legni. Margagliotti prova a reagire con una soluzione su palla inattiva ma il giovane estremo Viola non si fa il retire e disinnesca il pericolo. Poco dopo l'assistente richiama l'attenzione dell'arbitro che allontana il dirigente accompagnatore Battista. I padroni di casa non si perdono d'animo e pur se in una delle giornate meno brillanti dell'avvio stagionale non lesinano impegno. Dopo il tentativo fallito da Conti che tenta il numero in rovesciata ma deve fare i conti con l'estremo rivale arriva il secondo episodio da Moviola con la squadra di casa che invoca in vano un nuovo tiro dal dischetto per il presunto intervento con un braccio da parte di Rosati in traiettoria sul tiro di Colitto ma anche stavolta il fischietto terramano è di tutt'altra opinione. A ridosso dei titoli di coda l'indomito felice trova la rete che rianima la squadra di casa castigando il neo entrato Dedeo con una perfida conclusione dalla distanza ma gli assalti finali non riescono a centrare la meritata rimonta virtussina. A completare la giornata funesta dei padroni di casa arriva il cartellino rosso rimediato da Margagliotti dopo il triplice fischio. Mister Carlucci è arrivata la quarta sconfitta in cinque gare fortunatamente avevate accumulato un buon bottino all'inizio della stagione oggi è una partita emblematica delle vostre difficoltà non è riuscito neanche a fare i cambi. Io non so che partita ha visto lei ho visto una grande squadra che ha giocato 90 minuti nella metà campo loro due azioni due gol della squadra avversari con diverse decisioni arbitrali io non mi lamento mai dell'arbitro ma mai come oggi un gol annullato al lupo felice che viene da dietro e due palle in aree di rigore prese col braccio e un difensore loro ha dato un calcio al nostro giocatore dovremmo essere più forti anche di queste cose. Io faccio un applauso ai miei perché oggi ho ritrovato la grande squadra che ha lottato su tutti i palloni una sola squadra ho visto in campo ed è stata la nostra gli avversari sono stati cinici sì due occasioni due gol questo vuol dire quante squadra gente come micciche una palla che ti tocca fa un assist e un gol. La cura ronci continua a dare effetti al Sambuceto oggi una pesante vittoria con qualche recriminazione da parte di mister Carlucci per episodi un po' dubbi. Se ci lamentiamo degli albi lo possiamo farlo anche noi perché nell'espulsione di Marinella è una netta gomitata sul nostro giocatore l'arbitro lo vede fischia non viene mangammonito quello è il rosso diretto però per me non ha senso parlare degli albi in questo momento lui probabilmente ha ritrovato la sua squadra perché sentivo che diceva così ma io continuo a ringraziare questi ragazzi perché da due tre settimane è cambiato qualcosa sotto l'aspetto della mentalità sotto l'aspetto del sacrificio dell'impegno mi dispiace per il gol subito perché ci tenevamo tantissimo a non prendere gol oggi però l'abbiamo preso e siamo stati bravi a tenere duro fino alla fine.